Ciao a tutti amici nero azzurri, buona domenica, bentornati su Piripo Tramontana TV, bentornati sul canale. Allora ragazzi, oggi è domenica, quindi video un pochino più tardi, non alle 7 del mattino, perché a domenica. Chi si sveglia alle 7 del mattino se non per prendere e andare con la famiglia in gita o farsi un giorno al lago, in montagna, al mare, dove volete voi. Quindi un po' più calmi, me la prendo più con calma anch'io. Poi oggi è la festa della mamma, quindi insomma anche credo ci sia la preparazione per un pranzo, per una festa con la famiglia. E quindi oggi poi non gioca l'Inter, quindi siamo tutti più sereni, tranne me che devo andare dopo il pranzo a lavorare in TV. Allora ragazzi, prima però di iniziare con il titolo del giorno, che ovviamente riguarda l'Inter e Steven Zhang, vi ricordo che ci sono dei miei amici che hanno una cosa particolare da dirvi e dovete visitare poi il loro sito, perché esiste un metodo matematico per guadagnare con il calcio che si chiama Matched Betting. Il Matched Betting non c'entra niente col gioco d'azzardo, il Matched Betting consiste nel monetizzare in modo certo e prevedibile i bonus dei siti di scommesse. I bonus vengono monetizzati coprendo tutti gli esiti di una scommessa, per questo non è gioco d'azzardo, non è gioco d'azzardo. Non ci frega niente di come va la partita, ma solo di rendere prelevabile il bonus. Si guadagnano bei numeri, se si fanno le cose fatte bene, ovviamente come sempre, non ci sono tasse, si può fare ovunque nei ritagli di tempo. Il Matched Betting Academy sono dei ragazzi che hanno aiutato oltre mille persone da cinque anni con queste attività. Cliccate in descrizione per guardare il corso totalmente gratuito dei ragazzi di Matched Betting Academy. Ci sono anche tre regali aggiuntivi oltre al corso molto interessanti, quindi andate qua sotto nel link, cliccatelo e avrete tutto il loro mondo aperto. Allora ragazzi, partiamo con il parlare di questa trattativa di Steven Zanga che ormai è agli sgoccioli, ne parlo da tanto tempo. Sinceramente il discorso Pimco è venuto fuori dopo tutto quello che io vi ho detto. Non avevo idea di chi potesse essere il nuovo socio di Steven Zanga, però vi ho sempre detto che Steven Zanga non aveva nessun minima intenzione di lasciare l'Inter, a meno che non fosse arrivata quella famosa offerta di 1 miliardo 200 milioni di euro per prelevarsi tutto il pacchetto Inter, tutta la società Inter. Zanga l'avrebbe fatto perché sarebbe stato, e sarebbe ancora adesso, un grandissimo ritorno economico sull'investimento fatto qualche anno fa dal magnate cinese, però lo avrebbe fatto anche con il cuore pesante, non a cuore leggero, perché lui si è affezionato al suo lavoro, a questa Inter, è diventato tifoso, è diventato tifoso del calcio, perché prima per sua stessa ammissione lo seguiva poco, e comunque ragazzi stiamo parlando di uno dei presidenti più vincenti della storia dell'Inter. Dietro ai due Moratti, Angelo e Massimo, c'è Steven Zanga. Stiamo parlando di un presidente, e so che molti di voi non sono d'accordo perché ce l'hanno con lui e non ho capito perché, però stiamo parlando di un presidente che da quando è arrivato ha riportato l'Inter in Champions, ha portato Marotta all'Inter, ha portato grandi allenatori, grandi giocatori, ma soprattutto ha vinto. Ha vinto sette trofei, ha vinto due scudetti, ci ha fatto arrivare la seconda stella, ha vinto tre Coppe Italia, ha vinto due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, ha fatto una finale d'Europa League, una finale di Champions, ci ha regalato grandissime emozioni e grandissime soddisfazioni. Allora ragazzi, andiamo anche a leggere i dettagli della Gazzetta dello Sport. Le firme con Kimco, il motorino, con Kimco, ce la posso fare oggi e domenica ragazzi, datemi un po' di tregua. Alle fine mercoledì l'annuncio venerdì, quindi mercoledì sono previste le firme sull'accordo, ricordiamo che l'accordo con OCTRI scade il 20 di maggio, l'annuncio ci sarà venerdì, quindi esattamente fra cinque giorni, fra tre giorni è prevista la firma, fra cinque giorni l'annuncio della firma. L'Inter a brevissimo potrà quindi entrare finalmente nella fase operativa con i rinnovi di contratto, con il mercato, perché l'infinita trattativa per il rifinanziamento del prestito vedrà la luce. Allora ragazzi, questa è l'introduzione. Dopo vedremo quando sarà la scadenza con Kimco, ok? E quando vedrete e capirete, la saprete sicuramente già, quando sarà la scadenza con Kimco, capirete anche tante cose collegate che potevano essere degli indizi per arrivare a questa fine della trattativa. Allora, andiamo sui dettagli, no? Cosa consiste questo accordo con Fondo Statunitense e PIMCO, che di fatto sostituisce OCTRI? Allora, PIMCO garantirà a Stephen Zang e quindi all'Inter una cifra intorno ai 430 milioni di euro, ok? Sotto forma di finanziamento, per chi mastica un pochino più il discorso finanziario diventa anche tutto più facile da capire. Non è una cosa così complicata, basta un po' leggere e informarsi un po', insomma, si capisce un po' meglio per chi come noi mastica poco. Durata triennale, quindi 430 milioni, durata triennale, durata triennale, quindi fino al... Ok. È il numero che permetterà al presidente nero-azzurro di tenersi il club, di fatto estinguendo il debito con OCTRI e pagandolo, quindi dei 375 milioni che si erano accumulati come debito di OCTRI. Togliendo dal campo la possibilità che lo stesso fondo riesca, cioè, decida di prendersi impegno l'Inter perché il debito non è stato pagato. Ok. L'annuncio dell'accordo verrà, come abbiamo detto, venerdì, molto probabilmente, eccetera, eccetera. Poi su quello potrebbe essere prima, dopo, però, insomma, questi più o meno sono i riferimenti temporali. La trattativa è chiusa, anche se poi, finché non c'è l'ufficialità, bisogna andare con i piedi di piovo, perché sono cose molto delicate. Per l'operazione, ovviamente, non è semplice, però, insomma, è stata studiata nei minimi dettagli, nei minimi particolari, per arrivare fino a questo punto, quindi non credo che possa essere un problema. Allora, cosa succede, quindi, adesso? Abbiamo detto, il prestito di 430 milioni del fondo PIMCO dura tre anni, durata triennale, scade, quindi, nel 2027. Zank avrà molto tempo, adesso, per sistemare, perché, comunque, i ricavi stanno salendo, in Cina le cose pare che stiano migliorando, i ricavi dell'Inter sono sempre superiori, si punta al pareggio di bilancio nel giro di un anno, più o meno, massimo due, ma credo che entro l'anno prossimo, il prossimo bilancio potrebbe già essere vicino al pareggio e quindi stiamo parlando di una società virtuosa, una società che sta aumentando di molto i ricavi e sta abbattendo i costi. Se mi avessero detto, vent'anni fa, guarda che tu farai la carriera giornalistica, sportiva, parlerai di calcio, dell'Inter, non avrei mai pensato, dopo vent'anni, di parlare di economia, finanza, pareggio di bilancio, ricavi e abbattimento dei costi d'ingaggio, cioè abbattimento dei costi sui bilanci, cioè mai avrei pensato a una roba del genere, ho negato, cioè vabbè, comunque, quindi, cosa succede adesso? Succede che diventa tutto un pochino più semplice per Zhang, che ha tre anni di tempo per organizzarsi di nuovo, magari per cercare anche un acquirente, magari fra tre anni Zhang, o fra due anni, perderà delle motivazioni, avrà bisogno di vendere, ci sarà un acquirente che darà a Zhang quello che Zhang chiede, tante cose che possono esserci, possono passare in tre anni. Allora, diciamo così, il fatturato della società, come ho detto, sta sempre alzando, vediamo cosa dice ancora l'articolo della Gazzetta, niente, più o meno vi ho già detto tutto, l'unica cosa, perché comunque ovviamente Octree scadeva, quindi è ovvio che questa è una grande soluzione per Zhang, l'unica cosa che volevo farvi, su cui volevo collegarmi, 2027, qualche mese fa, fine 2023, mi pare, adesso vado un po' a memoria, potrei sbagliarmi con i tempi, ma siamo più o meno lì, cambia poco il discorso, Marotta, Ausilio, e Baccin, hanno rinnovato il contratto con l'Inter, fino al 2027, quindi qua, adesso non è un caso ragazzi, quando Zhang era via per, non si vedeva a Milano, stava lavorando sul rifinanziamento, Octree, nuovo socio, eccetera, 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 e tutti a dire, ma perché Zhang non è qua, ma perché Zhang sta là, ma perché Zhang non si fa vedere, ma Zhang è assente, eccetera, stava lavorando per l'Inter, per tenersi l'Inter, tanto è vero che ha fatto rinnovare, non è che la società si autorinnova il contratto, ha fatto rinnovare alla dirigenza il contratto fino al 2027, caso vuole che l'accordo con Pinco sia fino al 2027, ragazzi, un pochino più di fiducia in questo presidente, io capisco che molti di voi a prescindere ce l'hanno con lui, e non ho ancora capito perché, ma un pochino più di fiducia in questo presidente, in questa proprietà, che ha comunque, cioè, io vi invito solo a pensare questo, se Marotta, che è il migliore di tutti, Ausilio, che è il più bravo di tutti, Bacin, che è il più bravo di tutti, ma se Marotta decide, di lavorare per tanti anni per una società, sempre la stessa, e decide, di prolungare il contratto con questa società, non è perché gli danno i soldi, e lui dice, sì, vabbè, ma fanno io lo stipendio, che me frega, lo stipendio Marotta, come all'Inter, lo può prendere da qualsiasi altra parte al mondo, visto che è il più bravo, cioè, Mbappé, prende i soldi al Paris Saint Germain, non li smetti a prendere a Paris Saint Germain, va a prenderli a Real Madrid, Holland, uguale, chiunque dei grandi giocatori, ok? Cioè, normale, Marotta è un grandissimo dirigente, se non prende i soldi all'Inter, li va a prendere dall'altra parte, quindi non sta all'Inter per lo stipendio, sta all'Inter per il progetto, e sta all'Inter, perché all'Inter si lavora bene, lui lavora bene, e i risultati si vedono, lo testimoniano, perché lavora bene? Perché ha un proprietario che lo fa lavorare bene, se no Marotta, che è il numero uno, nel momento in cui annusa che le cose non funzionano, che il presidente non c'è, non lavora per l'Inter, eccetera, prende e se ne va. Fate solo questo calcolo, perché quando voi ce l'avete con Zhang e pensate che lui sia un presidente inadeguato, pensate a Marotta, che non sta con un presidente inadeguato, se no vuol dire che, pensate che anche Marotta, sia un approfittatore che gli va bene, quello che gli va bene, non è così, mi pare evidente. Quindi ragazzi, adesso cosa succede? Succede che l'estate si passa più tranquilla, e che questo problema di Zhang, Octry, eccetera, non c'è più, che per tre anni siamo sereni, tranquilli, e poi vediamo quello che succede, perché nel calcio e nelle aziende non si sa mai, ok? Però, ora guardiamo con molta serenità a quello che può succedere da qui a brevissimo, e poi ci divertiamo quest'estate, magari, proprio parlando anche qua su YouTube. Va bene ragazzi, allora, tanto vi ricordo di schiacciare il link qua sotto, mi raccomando, perché i miei amici vi aspettano, e poi, mi raccomando ragazzi, sempre forza Inter, ci vediamo questa sera, buona domenica e buona festa della mamma. Ciao ragazzi, cliccate campanella, notifica dei video, pollice in su, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e commentate qua sotto. Ciao ragazzi, sempre forza Inter.